Consigliere Rossi, quali sono i provvedimenti che si possono mettere in campo per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione? Allora, già alcuni provvedimenti sono stati presi dalla Regione, in particolar modo verso dei finanziamenti edievolati nei confronti delle aziende che devono ripartire, ma tanto ancora deve essere fatto e la partita chiaramente sarà in mano al governo, al nuovo governo, perché qui servono risorse significative. Si parla addirittura di oltre 3 miliardi di euro che dovranno essere messi a disposizione per far fronte a questa emergenza. Quindi quello che poteva fare la Regione l'ha fatto, adesso si sta facendo la conta dei danni, il Genio Civile è già intervenuto in molti casi, insieme chiaramente anche alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoche, alle squadre di protezione civile volontari che sono arrivate da tutta Italia, ora c'è la conta dei danni e chiaramente la Regione Marche non farà mancare la sua attenzione per queste popolazioni.